Il Parco Pertini, uno dei più belli ed amati di Arezzo, si rifà il look. Si sono infatti concluse le prime due fasi di riqualificazione dell'aria verde per un investimento complessivo di 580 mila euro. È stato un intervento globale che ha riguardato tutti i 7 ettari di parco, dalla vegetazione ai vialetti, sono state rifatte la recensione sul lato di Via Giotto in metallo, la recensione sul lato di Via 25 Aprile e di Via Signorelli è stata completamente ripristinata. Come vedete sulla vegetazione sono stati fatti interventi molto importanti, è molto più areato il parco, si ha la percezione di maggiore sicurezza. E poi sono state fatte queste nuove aree giochi, c'è un'area giochi per i più piccoli vicino al bar che è in via di ristrutturazione, un'area giochi per i bambini più grandi che è subito accanto. Qui è vuota, la terza area è vuota, ma a settembre arriverà il castello, quello importante che sostituirà quello che è stato tolto qui alle mie spalle. Poi c'è una nuovissima area fitness, tutta in acciaio, quindi speriamo che duri, che non ci siano atti di vandalismo ai quali purtroppo abbiamo assistito negli ultimi periodi. E infine nell'ultima parte, in fondo, c'è un mezzo campo da basket, quindi sono stati veramente fatti tanti tanti interventi su tutti i vialetti, rialzati dalle radici, l'illuminazione dedicata per le aree, il geyser all'interno del laghetto, quindi tutto il dreno del parco. Sono stati fatti interventi veramente molto importanti. A fine agosto, infine, toccherà le telecamere che verranno collegate alla rete di video sorveglianza della città e l'avvio della ristrutturazione ed ampliamento del bar del parco, a cure e spese del nuovo titolare della concessione.